Ciao a tutti! Buongiorno settembre! Ho spero che avete piaciuto i video di questa settimana. Oggi ho anche postato la chopard mail, quindi puoi vedere la differenza. Quali preferite? Personalmente, l'ho botha. Anche se Fiocco sia più melodioso per me. Siete con me? Mi sapete nei commenti, qui o dove volete. Io ti ricordo anche che puoi dare un consiglio su quello che vorrei vedere, o quello che non vorrei vedere. Se siete interessati a sapere dove questa bellissima vista è, ho già visto che mi avessi chiesto. Ho già detto che sto a registrare in Svizzera oggi, in area Lugano. Siamo ascoltati da voi in breve. Buongiorno! Buongiorno!